Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'oltrepop pavese Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici E poi, pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3 Vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015 No, la Pirolisi sia il territorio Saper esserci un incontro aperto contro l'insediamento dell'impianto di Pirolisi a Retorbido verrà domenica 22 novembre, voluto dal Partito Democratico Di cosa si tratta? Il problema della Pirolisi è un problema noto Non siamo i primi a sollevarlo, evidentemente Ci sono già state diverse iniziative Ci sembrava opportuno e necessario un momento organizzato dal nostro partito per discutere di questa cosa e per prendere oltre che una posizione politica netta di no nei confronti dell'insegnamento industriale di cui si parla e anche ragionare insieme agli attori del territorio su una serie di iniziative che si possono prendere in termini politici e non solo di presa di posizione pubblica nei confronti delle istituzioni perché questa cosa ovviamente venga risolta e venga evitata Questo è un evento che non è evidentemente legato a una presa di posizione esclusiva del nostro partito per cui ovviamente noi abbiamo invitato anche altre forze politiche che si sono dichiarate sul territorio contrario a questo insediamento ed è ovvio che andremo a verificare se loro stanno dalla nostra parte quindi dalla parte del no a questo insediamento Invito che ha già ricevuto un'adesione oppure no? Per quanto ci riguarda penso di sì, l'adesione ovviamente è solo verbale per il momento ma comunque dovrebbero essere presenti queste persone oltre ovviamente a una serie di esponenti del nostro partito a livello anche nazionale che vengono a supportare quella che è la nostra posizione locale Perché è importante che la cittadinanza partecipi a questo incontro? Allora questo incontro credo che sia fondamentale innanzitutto per il nostro territorio quindi se la partecipazione è estesa sicuramente noi potremmo avere un buon seguito a cercare di fermare questo impianto che per l'Oltrepo non è un impianto sicuramente di aiuto Noi siamo in un corridoio ecologico che a livello regionale lo vediamo come Oltrepo Pavese è fatto di campi, è fatto di prodotti tipici locali, è fatto di colline e quindi la genuinità secondo me è al primo posto e anche come associazione civica noi siamo quindi fermamente contrari a questo impianto inoltre la tecnologia di Pirolisi è addetta dai tecnici in contrasto con i dettami normativi italiani a tutela dell'ambiente e quindi speriamo insomma che le forze politiche siano tutte coese proprio per fermare questo tipo di industria inoltre anche dal punto di vista del territorio se facciamo un rapido calcolo riusciranno a smaltire 100 tonnellate di pneumatici ogni giorno questo vuol dire un sacco di camion sulle nostre colline nel nostro territorio diciamo totalmente sbagliato insomma dal nostro punto di vista quindi l'invito è per tutta la cittadinanza affinché partecipi e venga ad ascoltare questo dibattito e se riusciamo a fare massa sicuramente potremo essere più credibili e fermarlo davvero c'è già un bel movimento attivo su questo c'è già un bel movimento attivo per fortuna che qualcuno si prodiga in tanti hanno seguito le iniziative e anche noi siamo con loro insomma quindi cercheremo di fermare la questione a livello politico se possiamo con tutte le nostre forze grazie a tutti 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 grazie a tutti